Un gradito ritorno a Taranto, quello del dottor Massimo Cirassino. Il suo nome è abbinato a una lunga carriera internazionale legata alla Banca Mondiale. Questo come titolo, però io con Massimo Cirassino ci conosciamo da 30 anni e ci siamo rivisti dopo quasi 30 anni. Frequentavamo l'Isola dei Ricordi, l'Isola di San Pietro, una delle isole che era. Ma al di là di questa digressione parliamo di calcio e finanza, perché qui si sta presentando il libro di Sergio Brio, L'ultimo stopper. Oramai il calcio è formalmente un gioco, però nella realtà gravita in un mondo molto grande. Ci sono dei giochi di potere, degli interessi economici di natura mondiale. Certo, intanto piacere vederti e piacere essere qui a Taranto. Oggi sono in veste di amico di Sergio e di tifoso a Juventus. Come mostra la maglia? Dici bene, effettivamente se prendiamo il paragone con i tempi di Sergio, il calcio di adesso è un'esplosione non solo dei numeri, ma anche delle dinamiche. Quindi anche l'inserimento di nuovi soggetti, fondi di investimento, altri enti che pensano più a fare finanza che a fare calcio. Le dinamiche sono diverse, come sappiamo non c'è più l'attaccamento ogni volta alla squadra, però è forse una certa disparità tra quelle poche squadre che sono nell'Olimpo finanziario e le altre che devono competere. Però per fortuna il calcio ancora ci regala dei sogni. Io ho girato il mondo, mi dici, se c'è una cosa che unisce un po' tutti i paesi, quasi tutti i paesi, è proprio la passione per il calcio. Dall'Africa all'Asia, tutti con una maglietta di pallone, anche di questi miliardari, però ancora c'è la poesia. Parlando di miliardari, sappiamo che il nostro sogno o il nostro incubo, la nostra ossessione si chiama Champions League. Qui però al di là della sfiga che ci ha colpito, basta colpirci, nelle finali c'è un discorso più ampio. Il discorso è che comunque ci sono delle realtà economicamente colossali rispetto alle quali il gap è difficilmente colmabile. Penso agli sceicchi. Come fai a competere con realtà che ti fissano ingaggi sproporzionati, pazzeschi, rispetto ai quali tu con tutta la buona volontà, tu società, Juventus o altri club, si trovano in una situazione di inferiorità, proprio da un punto di vista finanziario, perché c'è una soglia di ingaggio, 5, 6, 7 milioni, arriva lo sceicco e ti spara 12 milioni. Come fai a reggere? Contemperare una sanità finanziaria, chiamiamola così, con l'obbligo morale che abbiamo di vincere? Diciamo che, fammi parlare da tifoso, non vorrei fare il sarri nella situazione e lamentarmi in Champions della disparità dei fatturati. Io dico che sono 4 anni che in finale di Champions ci vanno solo 4 squadre, delle quali 2, quindi l'Atletico di Madrid e la Juventus, sicuramente hanno un giro di affari inferiore a quello delle altre 2, il che vuol dire che ancora si riesce in qualche modo, in maniera creativa, ad essere dentro questo gap. Una finanza creativa, dovremmo dire. Diciamo che la Juventus, in particolare in Italia, è pioniera nel sfruttare nuovi filoni di finanziamento, quindi tutto l'indotto, adesso da quest'anno anche le ragazze stanno creando un indotto importante per la vendita di magliette e quant'altro, quindi diciamo che bisogna cercare di sopperire all'assenza di capitali freschi con qualche idea in più, quello forse bisogna fare. Grazie a tutti.